Questo video riguarda i migliori tre smartphone robusti. Il vincitore della qualità è il RAGD 5G. Aukitel WP10 ha un telefono cellulare robusto dotato della più recente tecnologia 5G al mondo. Banda di frequenza globale 5G, puoi usarla liberamente indipendentemente da dove ti trovi nel mondo. Aukitel WP10 ha prestazioni superiori impermeabili, antipolvere e anticaduta. Può essere utilizzato per 30 minuti in acque profonde 1,5 m. L'altezza anticaduta raggiunge 1,5 m. Aukitel WP10 è dotato di 8 GB di memoria in esecuzione, abbinata al chip del processore octa-core Dimensity 800, che può eseguire facilmente giochi su larga scala. Aukitel WP10 con fotocamera posteriore principale Sony da 48 MP e grand'angolo da 13 MP e macro e sfocatura. Quattro fotocamere posteriori ti aiuta a catturare chiaramente tutte le cose belle. Aukitel WP10 è dotato di una grande batteria da 8.000 m. Ha un tempo di stand-by fino a 780 ore e può supportare 56 ore di conversazione continua. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Otoav Cyber 9 Pro. Otoav Cyber 9 Pro Robusto Smartphone Offerta vanta un design dello schermo da 6,3, offrendo la migliore sensazione di uno smartphone a schermo intero. Cyber 9 Pro Ragged Smartphone Offerta è stato certificato LP68-IP69K e 1000 STD 810G. Il lato è realizzato con telaio in metallo, che può resistere a forti piogge e strade sterrate, impatto sconsiderato e cadute. Otoav Cyber 9 Cellulare Robusto è dotato di ben 8 GB di RAM e di 128 GB di ROM. La ROM è espandibile 256 GB tramite scheda microSD, fanno sì che il telefono sia veloce nell'apertura delle app. La fotocamera posteriore principale, con incredibili pixel da 48 MP, cattura fedelmente ogni messa a fuoco con dettagli vivaci in modo che le foto rimangano nitide anche dopo uno zoom vigoroso. Con un ampio intervallo di temperature operative da meno 30 gradi centigradi a 75 gradi centigradi, lo smartphone Ragged Cyber 9 Pro può gestire una varietà di ambienti esterni. Il vincitore del premio è l'Auchitel WP5. Lo smartphone robusto Auchitel WP5 ha superato il grado di resistenza agli urti IP68, IP69K e 1000, STD, 910G e soddisfa il grado di protezione IP68 militare. Lo Ragged Smartphone Auchitel WP5 è dotato di display HD e da 5,5 pollici, che offre un'area di navigazione più confortevole. Lo smartphone Auchitel WP5 è dotato di una grande batteria da 8000 ma il tempo di stand-by è di circa 615 ore, quindi non preoccuparti di rimanere senza energia. Auchitel WP5 telefono da lavoro dispone di 4 GB RAM e 32 GB ROM con ampio spazio di archiviazione. Lo Ragged Smartphone Auchitel WP5 è dotato dell'ultima versione del sistema Android 10.0, che riduce efficacemente il consumo energetico e offre un'interfaccia più bella e concisa. L'avanzato processore quad-core di Auchitel WP5 telefono da lavoro offre buone prestazioni e un'esperienza utente affidabile. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.